A questo punto chiamerei Luigi Vezzoso di Tales, Thales, scusate per la pronuncia fantasmagorica, e qua abbiamo due talk, chi controlla le mie chiavi, criptografia e key management, scenari di attacco e difesa, entrambi i talk sono proposti da Luigi. Facciamo partire il sondaggio e nel frattempo chiederei a Luigi, prima di tutto, qual è il talk da lui preferito e poi perché si dovrebbe scegliere l'uno o l'altro. Allora, sono due facce della stessa medaglia, il primo più incentrato sulla gestione delle chiavi criptografiche nel mondo cloud, il secondo più orientato al mondo criptografia e key management ovviamente nell'ambito di scenari di attacco e difesa, vulnerabilità che si trovano nel... hanno già deciso, mi sa che hanno già deciso, che si trovano nel... diciamo in the wild, quindi sul campo. Possiamo aspettare qualche altro attimo ma mi sa che ormai la decisione è presa. È presa, il dato è tratto. Buon speech. Grazie. Grazie a tutti, grazie per la partecipazione, ho visto che diciamo effettivamente questo era il mio preferito, tra i due speech, ma sono due facce della stessa medaglia. Brevemente l'agenda, mi ripresento brevemente, io sono Vessoso Luigi, mi occupo, lavoro in Thales e mi occupo di preventiva tecnica all'interno del gruppo che oggi presenta questo talk. Nel tempo libero mi piace, mi diletto, diciamo appartengo a un'associazione di volontariato che forma cani da salvataggio e offre servizi sulle spiagge durante l'estate. Brevemente chi è Thales? Thales è un gruppo multinazionale con Headquarter in Francia e l'obiettivo oggi è cercare in qualche modo anche di rendere evidente cosa facciamo nell'ambito cyber security, in particolare nell'ambito della criptografia e key management. Ci sono diverse divisioni, ci occupiamo di difesa a 360 gradi dal mondo, difesa e sicurezza militare, difesa del mondo aereo, quindi diciamo dei trasporti aerei fondamentalmente, sistemi di controllo di atterraggio e così via, aereo spaziale, quindi tutta la parte di dispositivi a bordo, di satelliti e quant'altro. E poi c'è la sezione a cui appartengo che si occupa della parte di cyber security, intesa quindi identità dell'utente, identità di sicurezza, diciamo, della digitale. Ringrazio tutti i precedenti speaker perché hanno già anticipato gran parte del background, dello scenario su cui noi andiamo a operare, quindi tutti hanno parlato di diversi aspetti, hanno parlato dei threat a cui siamo sottoposti, delle catene di attacco e in alcuni casi anche di quali sono le misure, le contromisure che vengono implementati, quindi noi andiamo a vedere come Thales si va a incastrare nell'ambito di un, diciamo i nostri prodotti si vadano a incastrare nei famosi livelli di protezione che abbiamo citato, che sono stati citati anche negli speech precedenti. Quindi sappiamo che le nostre applicazioni, i nostri utenti sono soggetti a tutta una serie di attacchi, attacchi verso l'utente, attacchi verso le autenticazioni, quindi verso l'identità, attacchi che alla fine comportano e vanno verso un target, questo target normalmente è il dato come è stato citato precedentemente. Qui ho preso in esempio soltanto il threat landscape di Enisa, solo come esempio. È già stato citato anche questo, defense in def, quindi noi già sappiamo che siamo tutti qui per mettere in sicurezza le nostre infrastrutture, tutti l'abbiamo fatto, probabilmente tutti abbiamo iniziato negli anni a mettere in piedi i primi firewall e poi diciamo si è stratificato nelle nostre aziende tutta una serie di meccanismi di controllo che via via vanno a proteggere i dati della mia infrastruttura. Quando parliamo di difesa e di livelli di sicurezza ovviamente parliamo di un qualcosa che non è soltanto una tecnologia, è qualcosa che imbraccia procedure, processi, awareness, tutto quello che coinvolge i processi aziendali. E quindi, come dicevo, tutti abbiamo iniziato andando a proteggere la nostra infrastruttura partendo dal perimetro, anche se adesso il perimetro con il cloud è chiaramente distribuito. Quindi tutti abbiamo applicato i nostri firewall, i nostri PS, web application firewall, tutti i vari livelli che sono stati citati poco fa in modo che vado a restringere tutti quei tentativi di accesso a servizi non autorizzati o per cui la mia applicazione non è prevista che fornisca servizio. E quindi applico le mie policy, le customizzo, regolo bene e permetto soltanto il minimo sindacale. Ma io poi devo dare per forza accesso ai dati, alla mia applicazione, agli utenti. E quindi poi ci saranno dei buchi, tra virgolette, per cui il mio firewall far passare il traffico. Atterro su un application server, su chi espone poi la mia applicazione. E anche lì i miei processi prevedono che comincio a eseguire dei processi di patch management, quindi aggiorno i miei sistemi, aggiorno le mie applicazioni, tutti i framework, i middleware, tutto quello che c'è a bordo, ci vado ad installare il mio EDR, ok, tutto deve essere ovviamente un'altra cipolla, quindi un altro strato del mio meccanismo di sicurezza. Non basta. Arrivo sull'applicazione. La mia applicazione non posso, diciamo, come abbiamo detto, il firewall mi fa passare, l'application server è patchato, è sicuro, non posso lasciare un'applicazione bugata. Quindi a partire dalle API, le librerie, i processi di autenticazione, se parlate di autenticazione forte, quindi devo applicarli sul mio applicativo, processi di code security, quindi sia a livello di sviluppo sicuro, best practice e quant'altro, perfetto. Alla fine di tutta questa catena l'utente deve avere accesso al dato. Questo dato è l'obiettivo, l'applicazione normalmente elaboro notare, quindi salvo informazioni, elaboro soprattutto adesso con tutto il tema del big data, cioè ho tante informazioni che devono essere condivise e devono essere protette. Ecco, i nostri prodotti, o parte dei nostri prodotti, quello di cui parliamo oggi, è esattamente quello. Sono tutte le protezioni, che per noi si intende, intendiamo come crittografia, che vanno a protezione del dato. Quindi è un altro elemento della catena applicativa che normalmente, magari qualcuno non ci pensa, tutti pensano normalmente alla parte di firewall, application security, sviluppo codice sicuro, ma poi alla fine il dato deve essere ceduto dall'utente finale, e quindi quello che facciamo noi è andiamo a proteggere il dato, consentendo l'accesso soltanto a chi è autorizzato, e lo facciamo secondo delle best practice. Esattamente questo, quindi qual è il contributo in questo caso che cerchiamo di dare come Thales CPL, come abbiamo visto Thales è un gruppo enorme. Noi lavoriamo sulla protezione delle informazioni, quindi data security e that's it. Lo facciamo secondo delle best practice, quindi andiamo a costruire, cioè non può essere implementata in modo casuale la crittografia, perché poi può diventare anche controproducente. Quindi che cosa facciamo? Andiamo ad applicare delle best practice, creiamo quella che chiamiamo crypto foundation, quindi abbiamo due temi, crittografia è legato a key management, quindi non posso avere crittografia se non gestisco correttamente le chiavi crittografiche, e vedremo a breve che cosa intendiamo per gestione corretta delle chiavi. E quindi ho questi due macro blocchi e delle best practice, quindi gestione delle chiavi crittografiche robuste, quindi le chiavi devono essere generate correttamente, i processi di key rotation, di revoca e quant'altro devono essere gestiti in modo robusto, devo utilizzare algoritmi standard, questo è risaputo, nel senso non mi invento crittografia ma utilizzo quelli che sono gli standard, ma perché? Perché quelli sono gli algoritmi e i meccanismi che sono stati più studiati nel tempo, quindi sono pubblici, sono soggetti ad attacchi dalla comunità crittografica internazionale e lì vengono tirate fuori le falle e anche questo a volte non ci assicura. E quindi se vuole best practice. La prima best practice che qui è indicata è quella di separare la chiave crittografica dal dato, non lascio le chiavi attaccate alla porta, che ovviamente posso mettere la porta blindata più sicura del mondo, se ci lascio le chiavi, questa cosa invalido tutta la sicurezza. E quindi nella nostra offering e nel nostro approccio abbiamo questo paradigma, key management da una parte e prodotti e software o integrazione con terze parti per la parte di crittografia. Ma perché proteggere le chiavi? Ok? Abbiamo detto che il talk sarà un po' orientato su casi reali di compromissioni legati a una gestione errata probabilmente della crittografia o come diciamo in qualche modo cerchiamo di suggeriamo o spingiamo l'adozione e supportiamo i nostri clienti. Ok. Primo esempio. Certificati sono due, sono molto simili, come due, uno credo fosse del 2022 e l'altro addirittura del 2023, quindi abbastanza recente. Quindi compromissioni di chiavi crittografiche. Per qualche motivo, immagino, oggi diciamo, viviamo tutti nel mondo del DevOps, quindi abbiamo pipeline, abbiamo repository di codice. capita che se non è gestito correttamente il processo di gestione dei secret, di gestione dei certificati e quant'altro all'interno dei miei bucket, a livello software io ci vado a inserire, vado a salvare all'interno dei miei repository delle chiavi crittografiche. In questo caso c'erano dei certificati di firma utilizzati da NVIDIA, nell'altro caso erano MSI, quindi un produttore hardware, chiavi private, quindi certificati ma intesi come chiavi crittografiche private per firmare codice, per firmare firmware. Questo è un grave errore. Se io riesco a tirare, chiunque ha accesso la chiave privata può firmare il mio software, il mio codice, come se fosse il produttore stesso. E quindi tutti quei famosi controlli che abbiamo fatto prima, io ho detto l'EDAR che controlla magari le firme, verifica se il produttore è corretto e quant'altro, è invalidato perché viene riconosciuto come un software a tutti gli effetti del produttore. Questo pensate nell'ambito per esempio automotive, IoT, quindi tutte le centraline delle auto, cioè nel momento in cui vado a firmare un aggiornamento del firmware o appunto i droni e quant'altro, devo assicurarmi che soltanto il produttore possa installare il software corretto e quindi devo gestire correttamente le chiavi crittografiche. Non le posso lasciare in chiaro e devo attivare, anche se non li metto su un repository, come immagino non sia accaduto, dobbiamo fare in modo che le chiavi private siano gestite nel modo corretto. Ed è qui entrano in campo i dispositivi che vedremo, gli HSM. Un altro caso interessante è questo qui dell'entropia, cioè nel momento in cui creo chiavi crittografiche non posso crearle diciamo in modalità casereccia, devo assicurarmi che tutto il processo di creazione di chiavi crittografiche sia robusto. Questo è un bollettino recentissimo, perché era appunto sempre del 2023 di marzo, se non ricordo male, in cui in questo caso si squasa, ma diciamo questo può capitare a chiunque, nel generatore di numeri casuali, quindi con cui venivano create le chiavi crittografiche, non era robusto a sufficienza. E quindi diciamo c'era un meccanismo per cui io potevo andare a predire le chiavi crittografiche. Quindi io metto la mia bellissima IPsec, ora non ho visto il dettaglio, però cifro i miei dati con un bel certificato con IPsec, ma quelle chiavi sono predicibili. Quindi vado a invalidare ancora una volta la sicurezza dei miei sistemi. Come faccio a ovviare a questi tipi di problematiche? Vado ad utilizzare quei dispositivi che vengono chiamati Hardware Security Module, HSM. Gli HSM sono dei dispositivi fisici, da cui viene hardware, che ci permettono di gestire correttamente, ci forzano a gestire, mi verrebbe da dire in alcuni casi, tutti i processi di gestione, soprattutto delle chiavi private, ma non soltanto, chiavi crittografiche. Quindi le chiavi crittografiche vengono generate all'interno di un dispositivo sicuro, tamper-protect, resistant, quindi nel momento in cui vado a cercare di compromettere in modo fisico, in modo logico, cancello le chiavi e quant'altro. La generazione dei numeri casuali, pure, è corretta, e sono certificati, e così via. Vado un po' in dettaglio, così cerchiamo di rimanere nei tempi. Come fanno questi apparati a essere una soluzione per quel tipo di problemi? Le chiavi crittografiche all'interno di un HSM, ripeto, sono forzatamente gestite nel modo corretto, perché le chiavi private, per esempio, non possono essere estratte, io genero la chiave lì dentro, nessuno può portarmi fuori, fisicamente, quella chiave fuori dell'HSM. Quindi tutte le operazioni crittografiche di firma, che abbiamo visto prima nella firma del codice, vengono eseguite all'interno dell'HSM. Tutti i tentativi di accesso alla chiave, in modo malevolo del tipo, smonto lo chassis, semplicemente mi stacco l'apparato e lo porto a casa, o cerco di fare un brute force sull'account per accedere alla chiave, o per eseguire una firma, vengono rilevati, posso agire, c'è un antitampering attivo richiesto dalla certificazione FIPS, per cui io eventualmente posso attivare le politiche e vengono cancellate, quelle chiavi. se io vedete sotto c'è l'immagine, anche le vibrazioni, le radiazioni, se provo ad attaccare delle sonde e quant'altro, vengono tutte rilevati e compromessi. E poi mi forza perché appunto ho delle cerimonie per poter creare le mie chiavi, ho la multifactor authentication fisica sui apparati, sul quorum, quindi posso eseguire che un'operazione di amministrativa deve essere eseguita da più amministratori e così via. Quindi è lui che mi aiuta. Un'altra cosa interessante nel secondo caso della parte di generazione di numeri casuali è che il generatore di numeri casuali, quindi l'entropia delle chiavi che vengono generate non è casuale, cioè è casuale ma è certificata, quindi il generatore di numeri casuali usa delle sorgenti robuste, posso agganciarlo a un generatore di entropia esterno, magari quantum resistant, e quindi mi dà una garanzia e le chiavi criptografiche che vado a generare siano robuste. Il problema del generatore di numeri casuali è che non sappiamo mai quando è casuale. Perfetto, questa diciamo era la parte di key management, ovviamente c'è l'altro blocchettino del crypto foundation che è la parte criptografica, quindi come poi vado effettivamente a proteggere i miei dati. Qui ci dobbiamo chiedere innanzitutto per una strategia corretta dove sono i miei dati, quali sono i miei dati, che tipologia di dati devo proteggere, se sono soggetto a regolamentazioni, GDPR e quant'altro, se richiedo delle certificazioni particolari, eventualmente se voglio proteggerli i dati stazionari, il movimento tra due site verso il cloud e così via. Perché mi faccio queste domande? Perché magari riesco a dare una priorità agli interventi, quindi vado a lavorare dove effettivamente ho i miei dati più critici e dove sono probabilmente più esposti. come lo facciamo? Che cosa possiamo fare in questo ambito? Abbiamo una soluzione chiamata Cypher Trust Data Security Platform che guida a 360 gradi tutti i processi di data protection. Quindi data discovery, posso identificare i miei dati, quali sono le compliance o le criticità, qual è il grado di rischio che questi sono, che presentano e così via. Li vado a proteggere con la criptografia a 360 gradi, adesso vedremo che cosa intendiamo, e poi il controllo delle chiavi criptografiche che abbiamo detto poco fa. Quindi generazione robusta, access controlla sulle chiavi e così via. Lo facciamo con un elemento che viene chiamato Cypher Trust Manager, quindi è un key manager centralizzato con HSM con tutti i benefici che abbiamo visto prima. Che cosa mi fa? Mi gestisce le mie chiavi, mi gestisce l'accesso alle chiavi, quindi chi può far cosa, che operazione posso fare con quella determinata chiave criptografica, l'udit reportistica e così via. Tutto con una console centralizzata per semplificare i processi. Abbiamo detto criptografia, lo facciamo su tutte le tipologie del dato, quindi non ci interessa, o meglio, nella fase di analisi iniziale cerco di identificare quali sono i sistemi dove sono presenti i miei dati, poi noi abbiamo degli strumenti per fare criptografia a livello file system, quindi criptografia, access control, ransomware protection, possiamo lavorare a livello database, a livello applicazione, quindi API criptografiche per gli sviluppi software e poi tokenizzazione che ovviamente è un caso particolare della parte encryption. Sul key management, ovviamente, che abbiamo detto che è uno dei due tasselli fondamentali, lo facciamo sia per sistemi tradizionali, on-prem, database e quant'altro, sia nel mondo cloud, quindi tutte le chiavi criptografiche del mondo cloud possono essere gestite. e a questo si aggiunge anche la parte di gestione dei secret. Vado veloce che stiamo quasi raggiungendo il limite di tempo, abbiamo diversi strati, ok, come vado ad applicare l'encryption? Ovviamente possiamo applicare a diversi livelli, a livelli infrastrutturali, fisici, i dischi e quant'altro, a livello file system, posso andare a livello applicativo, eventualmente verso il cloud. È tutto ovviamente un compromesso, vi faccio qualche esempio, attacchi fisici, oggi uno pensa se possono mai rubare un disco, un disco, parliamo di infrastrutture, non parliamo di laptop in questo caso, è successo, cioè in questo caso uno spostamento Scaleway è un provider di servizi che stava spostando fisicamente dei dischi di un'infrastruttura tra un data center e l'altro, magari per disaster recovery o per altro, c'è stato un furto fisico di dischi, i dati erano in chiaro di un provider qui, dice anche italiano, una VPS italiana. L'altro caso, l'altro è un paper semplicemente oggi col mondo cloud ma anche virtual machine e quant'altro, la fisicità si è persa quindi basta che io ho degli snapshot come faccio a garantire che uno snapshot o una macchina virtuale che è impostata dentro un service provider in qualche modo non venga mantenuto anche in uno store dove io non ho controllo diretto. Ok, vediamo, questo è uno degli attacchi invece questo attacco non ve lo racconto perché ve l'hanno raccontato già gli speaker precedenti quindi un attacco verso un application server quindi attacco verso i servizi come si dice movimenti laterali e quant'altro. Soluzioni. Un esempio è questo qui cioè noi col paradigma di separare la chiave criptografica dal software in questo caso ho preso un esempio ma questo vale per tanti sistemi hypervisor, storage, dischi io mi mantengo le mie chiavi criptografiche centralizzate in uno strumento un HSM in un key manager anche se io avessi degli snapshot di virtual machine ora qui vi ripeto vediamo VMware ma potrebbe essere una macchina in GCP potrebbe essere in AWS in qualunque infrastruttura nel momento in cui ho uno snapshot che è cifrato ma la chiave è gestita e sotto il controllo del cliente finale io quegli snapshot non posso avviarli perché i dati sono cifrati la chiave non rimane fisicamente sul disco né sullo storage né sull'infrastruttura posso andare a livello più alto file system encryption e qui che cosa vado a proteggere un patto del file system oltre a fare criptografia posso controllare quale è il processo che ha accesso al dato quindi vado a autorizzare solo l'utente solo l'applicativo che fisicamente ha accesso alla chiave quindi io che ho dato una regola di access control ad esempio canonico se io ho un ransomware o un malware che non è il processo originale quindi è mutato il nostro software in modo trasparente va a cifrare i dati ma riesce a riconoscere anche i tentativi di cambio utente switch user o modifica del software sorgente altro caso il terzo diciamo la gestione delle chiave in cloud ovviamente se io sposto questo nel cloud nel cloud questa cosa è ancora più estesa perché ho tanti service provider differenti ognuno al suo meccanismo di key management sono tutti cifrati by design ma ovviamente io voglio mantenere questo paradigma di gestirmi le chiavi correttamente e quindi noi abbiamo un elemento che ci permette di gestire con questo paradigma della separazione le chiavi criptografici di tutti i cloud provider ad oggi esistenti in varie modalità che erano diciamo ambito del talk precedente ok e vi invito poi eventualmente a chiederci informazioni su questo ambito particolare in questo caso noi riusciamo a gestire le chiavi criptografiche anche separatamente dai servizi che sono in cloud secondo diverse modalità mantenendo questo questo paradigma quindi se avete delle domande su questi temi vi aspettiamo allo stand grazie